L'Aquila Calcio affronta domani per la prima di campionato la Pistoiese, avversario già incontrato nella precedente stagione. Forte degli ultimi due colpi di mercato, Milicevic e Maccarone, il mister Carlo Perrone chiede ai suoi tre punti, tutti convocati per la gara di domani, tranne i cosentini. Che la squadra disputi una partita come nelle loro possibilità, quindi un'ottima prestazione. Spero che ci sia anche una cornice pubblico importante perché abbiamo bisogno del supporto dei nostri tifosi e speriamo che alla fine il risultato sia buono. Come schiererà la squadra in campo? Il nostro modulo di riferimento adesso è il 4-3-3 inizialmente, quindi giocheremo in questo modo come abbiamo fatto dall'inizio della stagione. Pistoiese è già incontrata nella scorsa stagione, come vede questo avversario? È un avversario che ha cambiato qualcosina, una squadra come tante del Girone, abbastanza giovane, però ha dei giocatori di grande qualità, soprattutto in mezzo al campo. Adesso ha preso anche altri due giocatori all'ultimo minuto, uno è Piscitella che è un ritorno, e un'altra è Sinigaglia, quindi è un'ottima squadra, ha fatto un grande risultato in Coppa Italia vincendo contro un Savona un po' rimaneggiato 4-0, quindi è una partita che va affrontata con grande attenzione. Tutti convocati? Sì, i ragazzi sono tutti convocati, eccezione fatta di Cosentini. Cosentini andrà a casa per vedere se riesce a trovare una sistemazione, una squadra.